buongiorno buona domenica ciao a tutte e ciao a tutti ciao vitamina ciao cucciola allora oggi nuovo video mi vedete già con la base fatta tipo cadaverica oggi proveremo quindi ho già la base fatta lo so è troppo chiaro questo fondotinta che ho usato è questo il super matte di brouche ma il 025 il beige 025 non so se riuscirete non lo so c'è troppo chiaro avrei preferito magari un beige 100 150 non 200 però appena farò l'ordine se avrò la possibilità di di fare l'ordine di aggiungerlo questo che voglio dire lo prenderò perché è troppo cadaverico questo colore c'è anche buono per il momento vabbè ok lasciando stare questo io già l'ho fatta la base ho messo anche il suo correttore abbinato il correttore del beige 100 mentre appunto il fondotinta il 025 a me piace di più il correttore che va bene comunque visto che già abbiamo fatto la base ho fatto la base senza farvi vedere nulla e vabbè ho messo anche la cipria di faberlic che già se ne sta quasi andando diciamo che ho avuto un po' di difficoltà nel naso non so non so forse il naso secco nonostante abbia applicato la crema comunque oggi ci truccheremo con i filtri di tiktok esatto ci sono vari filtri molto carini tipo quello delle sopracciglia o quello dell'eyeliner carina insomma vediamo un po' cosa sperimentiamo oggi via andiamo subito su tiktok allora ecco il filtro di tiktok questo è troppo carino mi piace volevo capire bene come si usa per fare appunto la forma perfetta delle sopracciglia allora è un filtro precisissimo perché qua noi quindi andiamo a truccarci poi abbiamo qua sopra dovrebbe essere il punto qua di fine giusto? facciamo anche qua quindi in pratica dobbiamo unire i punti a me serve lo specchio per forza perché cioè devo oddio santo vabbè dobbiamo andare allora non basta che fa già la forma ok ecco allora queste sono le sopracciglia fatte diciamo tramite il filtro non so se sono andata bene però sì ho cercato di rispettare un po' i punti del filtro a me piacciono troppo perché alla fine sono sempre quelle sopracciglia che riesco un po' a farmi io però con questo filtro le ho fatte tipo precise mi piacciono molto e dove sistemano tipo qui sotto dove fare un po' di correttore in modo da sistemare un po' la situazione però mi piacciono quindi questo appunto è l'effetto sistemato un po' con il correttore ok quindi queste sono tipo le sopracciglia però con il filtro diciamo sempre più precisi spero vi piacciono adesso facciamo gli altri filtri il filtro del contouring allora dobbiamo evitare di non fare danni perché allora il contouring è praticamente lui ci segnava il filtro questa sezione tipo celestina dove noi dobbiamo andare ad applicare un correttore comunque scuro o un fondamenta più scuro io avrei questo che è il brun 900 però ho paura di fare danni quindi vado con la terra che è meglio perché con la terra mi sono sempre trovata bene e continuo a trovarmi bene quindi cerco di andare ad applicare un po' di prodotto qui lo vado ad applicare con le mani in modo che poi noi lo possiamo sfumare non vado a fare certi danni perché già vabbè i so ok quindi lui praticamente il contouring lo fa così vabbè seguiamo quello che dice ok vado a sfumare ok questo è il risultato sfumato si ho cercato insomma di fare del mio meglio perché comunque vedete quindi comunque l'importante è che noi lo abbiamo applicato nei punti giusti che ci dice lui è qui perché poi una volta che uno va per sfumare giustamente comunque questo è il filtro a me piace troppo anche se comunque io di solito lo applico qui però qua secondo me mi ha dato un punto di visuale diverso comunque da applicarlo mi piace lo stesso adesso andiamo a vedere gli altri filtri allora adesso proviamo il filtro che ci darà per quanto riguarda l'eyeliner vediamo che eyeliner ci dà oddio allora sembra una cosa molto difficile ma ci proveremo allora io mi aiuterò sempre con una matita in modo da poter segnare quindi qua dovremmo tipo fare l'eyeliner qui vabbè ci provo a dopo allora provate a fare il filtro allora cercavo un filtro per il rossetto però non c'è però vabbè lo facciamo noi tranquillamente non ci sono problemi rossa ecco qua vabbè allora sono fra sopra a me l'abbiamo anche il filtro super carino rosso vi saluto spero che vi siano piaciuti i miei tre filtri se avete altri filtri da poter provare comunque giocare insieme e divertirci scrivetemi sotto che io li cerco app se possibile io ci vediamo ciao ciao